Noto, con estremo dispiacere, che tante persone stavano aspettando soltanto questo momento, e cioè l'istante successivo alla prima sconfitta ufficiale stagionale della Juventus di Tiago Motta. Badate bene, me lo aspettavo, ed è logico che sia così, i tifosi delle altre squadre stanno gongolando i laziali perché si sono andato derubati, i napoletani, gli interisti, i milanisti, per via delle rivalità storiche, eccetera, eccetera. La cosa che dispiace ancora di più è notare tanti tifosi juventini quasi sollevati da questa sconfitta, perché loro lo sapevano, loro avevano detto che sarebbe andata male questa stagione, e quindi alla prima sconfitta stagionale possiamo assolutamente andare a demolire tutto l'intero progetto, giunto l'Itiago Motta, il progetto, tutto, 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 prendiamo, buttiamo via. Ragazzi io credo che sia necessario arrivare a questo livello di analisi per comprendere il video, e per fortuna ci sono tante, se non tantissime persone su questo canale, o che non sono iscritte ma vengono con piacere ascoltare quello che viene detto su questo canale, che sanno perfettamente distinguere la valutazione di una singola partita brutta, pessima, giocata malissimo, che valuteremo anche nelle pagelle che abbiamo già descritto nel post partita, nei confronti invece di un'intera stagione o di quello che abbiamo visto. Perché la Juventus è una squadra che ha iniziato un'annata per andare in netta contrapposizione con tutto quello che ha fatto invece nelle ultime stagioni, quindi viene da sé, viene naturale pensare che ci voglia del tempo. Allo stesso modo si può criticare in maniera oggettiva quella che è stata una partita brutta, ma che lo stesso Tiago Motta è arrivato a dire che è stata una partita dove hanno meritato gli avversari degli avversari. La cosa che mi va a sollevare un pochettino è che Tiago Motta ai microfoni, va a dire sì dobbiamo migliorare e questa è tutta responsabilità mia. E quando fai un mea culpa e ti assumi le tue responsabilità è sempre qualcosa di molto, 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 molto interessante. Io ho ascoltato l'analisi di Di Cagno nel post partita ai microfoni di Sky e devo dire che la condivido, perché Di Cagno dice esattamente quello che ci stiamo ripetendo da un po', e cioè che sì, è giusto dare del tempo, è necessario dare del tempo, ci mancherebbe altro il tempo vadato, però la Juve deve fare di più, la Juve deve creare di più, perché la Juventus non è che non fa gol, ma non crea occasioni da gol. Questo è il grande problema della Juventus. E questo non può dipendere dalle qualità e dalle caratteristiche dei giocatori. Questo è per forza di cose un difetto legato a quello che oggi è l'approccio di gara. Tiago Motta vuole un possesso palla sempre maggiore rispetto agli avversari. Questo è il dogma del gioco di Tiago Motta. Questo è il primo comandamento di Tiago Motta. Lo sapete bene, io l'ho detto allo sfinimento, l'ho detto fino alla noia. A me il possesso palla prolungato non è quello che diverte di più nel calcio, anzi, tutt'altro. A me piace anche arrivare in porta con due o tre passaggi, mi piace il break, la ripartenza, mi piace le contropiede. Queste sono cose che appartengono alla mia lettura di calcio. Lo sapete bene, però poi arriva un punto in cui devi distinguere il tuo gusto, quindi il soggettivo, con l'oggettivo. E quindi mi siedo, mi faccio la parte, osservo quello che ha in mente Tiago Motta e come Tiago Motta vuole arrivare alla vittoria. Allo stesso punto però vi dico che in questo momento la Juventus non sta funzionando. Cioè questo è un dato di fatto. E non solo la Juventus vista in Champions con lo Stoccarda, dato che abbiamo fatto la distinzione tra la partita e il generale. Questo è un problema generale della Juventus, che viene trascinato dalla seconda partita, anzi dalla terza partita di campionato. Quindi da Juventus-Roma 0-0. Perché nelle prime due partite di campionato con Como e Las Verona la Juventus invece aveva dimostrato di essere una squadra in grado di andare in gol con facilità, segnando sei gol nelle prime due partite. Da quel momento in poi, dal pareggio per 0-0 con la Roma, pareggio con l'Empoli, pareggio con il Napoli, con la Last una partita così così, e iniziano il pareggio col Cagliari, iniziano a unire fuori un po' di limiti per la Juventus. Non solo nei risultati, attenzione, non solo nel fatto che vengano fatti dei pareggi, ma nel fatto che la Juventus faccia fatica a fare gol. E la più grande, anzi le due più grandi, i due più grandi campanelli d'allarme sono col Cagliari, dove la Juve invece riesce pure a creare azione a gol, ma non riesce a segnarlo, quindi non riesce a creare la partita e viene fregata sul finale. E con la Last una, dove praticamente gioca tutta la partita con un uomo in più e non riesce a creare quelle occasioni per riuscire a portarsi in vantaggio. Quelli sono due campanelle d'allarme grosse. E stasera abbiamo visto ancora una volta che la Juventus fa una fatica bestia, veramente una fatica bestia nel riuscire a creare davvero dei pericoli. Quindi io credo che Tiago Motta debba cercare un pochettino di mediare e arrivare a dire, ok, questa è la mia idea, ok, questo è il modo che mi sono immaginato la Juventus, però adesso non sta funzionando e allora devo fare un passo indietro alle mie convinzioni e cercare di fare un passo avanti verso quello che deve essere il concreto della squadra. Perché in questo momento bisogna essere anche pragmatici. La Juventus deve cercare di mantenere questo equilibrio, questa fase di non possesso palla efficace, ma allo stesso tempo scoprirsi un po' di più e riuscire a diventare una squadra pericolosa anche sul fronte offensivo. Perché vi dico questo? Perché la Juventus è carente principalmente da due punti di vista e si riassume tutto con il ritmo. Il ritmo del palleggio, perché la Juventus dal punto di vista del palleggio è una squadra molto lenta, e il ritmo dal punto di vista della riaggressione, dell'aggressione. Le seconde palle, con la partita con la Stolcarda, le abbiamo perse tutte. Non eravamo messi bene in campo. Lo stesso Fagioli ha detto, stasera non eravamo messi bene in campo e quando sono i protagonisti, Tiago Motta, Fagioli, quelli che sono andati in campo, che hanno preparato la partita, che dicono queste cose, significa che è stato palese, che è una roba veramente oggettiva, perché sennò i protagonisti si guardano bene dal dire determinate cose. Nelle prime dieci, andate a prendere la classificatoria di Serie A, guardate, le prime dieci in Serie A, la Juventus è la seconda peggior squadra per expected goal. Sapete che io non sono un gran fan degli expected goal, ma dal punto di vista delle analisi, per questo tipo di analisi sono molto importanti. la Juventus ha un valore di XG pari a 10.4. Peggio della Juventus soltanto l'Udinese, con 8, molto vicino alla Juventus il Torino, in realtà, però la Juventus è comunque la seconda peggiore delle prime dieci, anche se di poco è la seconda peggiore delle prime dieci. Dal punto di vista degli XG subiti, invece, la Juventus ha 3.4. Ora, cerchiamo di fare il quadro generale, invece, della Juve, che ha subito un solo goal, invece, e l'ha subito su rigore, il rigore procurato da Douglas Lewis nella partita contro il Cagliari, e ha segnato 11 goal, invece, tutto questo in otte partite. Cosa significa? Che la Juventus sta leggermente overperformando. Significa che la Juventus avrebbe dovuto segnare mezzo goal in meno, quindi dal punto di vista della produzione offensiva ci siamo, e la Juventus avrebbe dovuto subire qualche goal in più, leggermente overperformando. Ma allo stesso tempo ci rendiamo anche conto che la Juventus non è che avrebbe dovuto segnare tanti goal in più. Perché? Perché la Juventus non è solo che fa pochi goal, come dicevamo all'inizio, ma crea anche poche occasioni da goal. Quindi questo è il grande limite della Juve, oltre alle posizioni in campo, abbiamo già spiegato, Ildiz per me in quella posizione un po' sprecato, i cambi post Stoccarda, anzi, durante la partita dello Stoccarda, sono stati, secondo me, un pochettino singolari. Con Seyssao tolto, Vlaovic tolto, Turam tolto, Ildiz rimane in campo, boh, tutte cose che un pochettino non mi sono piaciute, e Tiago Motta si è preso le sue responsabilità, benissimo, perfetto. Però quello che voglio passarvi con questo video è il seguente messaggio. È andata male con lo Stoccarda, è andata molto male con lo Stoccarda, sono stati la squadra migliore e hanno meritato di vincere. Punto. Partita brutta. Progetto fallimentare? No. Perché serve del tempo a questa Juventus, serve del tempo a Tiago Motta. Il tempo infinito? È giustificabile quello che stiamo vedendo? Con una volta no. Perché la Juventus sta andando molto bene dal punto di vista del palleggio, molto bene dal punto di vista difensivo, è necessario chiedere qualcosa di più. Quindi sì, sposo totalmente il pensiero di Di Canio. Di Canio stesso ha parlato con Tiago Motta, ha esposto questo concetto a Tiago Motta. Lo stesso Tiago Motta non si è sentita di negarlo, anzi, ha detto dobbiamo far meglio dal punto di vista offensivo, ma per riuscire a fare meglio dal punto di vista offensivo bisogna migliorare la costruzione. Perché la Juventus oggi è una squadra che ha un asfissiante possesso palla che poi non porta quasi a nulla. Tant'è che i maggiori pericoli, secondo me, visti nella partita con lo Stoccarda, sono nati o da un cambio campo, mi viene in mente quello di Savona nel primo tempo di sinistro, che poi ricambia nuovamente per tornare a destra. Quindi nei cambi campo sono impattanti, li avevamo visti nelle prime partite di Juventus Diago Motta ed erano molto importanti andare a prendere l'ampiezza con i cambi campo fondamentali. Anche perché ovviamente col cambio campo riesce a dare ritmo e torniamo a uno dei problemi di qui sopra. Ma soprattutto nelle ripartenze. C'è stata una ripartenza nel secondo tempo dove abbiamo lanciato lungo su UEA e abbiamo matematicamente subito creato un'occasione da gol. Quindi queste sono le cose che la Juventus deve cercare di migliorare oltre al fatto che ultimamente la Juventus non riesce più a finire una partita senza delle decisioni arbitrali di mezzo. Perché se pensiamo a Lipsia, se pensiamo a Cagliari, se pensiamo a stasera, se pensiamo con l'Alazio, con Douglas Lewis, che tra il fallo su Rovella e il cartellino giallo che secondo me doveva rimediare con Patrick, che non era rosso per me, ma era giallo, però la somma di ammunizione avrebbe fatto rosso, la Juventus sarebbe stata con quattro partite, forse nelle ultime cinque, con dei cartellini rossi di mezzo o dei rigori subiti. Quindi, attenzione, perché da questo punto di vista la Juventus deve per forza di cose iniziare a ragionarci. Non è che possiamo farci andare bene tutto. Quindi, da quel punto di vista bisogna migliorare, anche perché sembra arrivare a un certo punto in cui la Juve dal punto di vista mentale non riesce più a reggere tutto quello che c'è ed esplode da questo punto di vista. E questo è un difetto. Questo è un difetto mentale della squadra. Perché? Perché non riesce ad andare in vantaggio, non riesce a sbloccare le partite, non riesce a chiudere le partite, non riesce a dilagare. Perché? Perché non riesce a segnare e perché? Perché non riesce a creare occasione da gol. E tutto questo lo può risolvere soltanto, mista Tiago Motta. Le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo oggi con le pagelle. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.